Ottimo avvia dei riparelli, ben reattivo, perfettamente allineato, spalle basse nelle prime falcate, nei primi appoggi, è lui che si aggiudica la prima batteria con 10 e 78. Fornasari, Cortellazzo, terza quarta corsia, quindi probabilmente sarà una spalla a spalla tra i due perché hanno due accredi molto simili, ma viene via bene in seconda corsia anche a Bicalo e vince in 10 e 95. Partita questa volta valido, l'avvio e si mette in azione. Jacques Riparelli incalzato però da Fredelfo Nasari, attenzione Riparelli, dice 10 e 88. E' decisa, fluida, penetrante l'azione di Rene Siragusa che arriva qui sul traguardo per prima in 11 e 92. Partiti la serie di 400 metri, quest'anno i più veloci nella prima parte delle stagioni sono stati Sibilio con 46-73, Casarico con 47-04 e poi il giovane allievo al primo anno con la migliore prestazione italiana proprio per allievi al primo anno, Lorenzo Benati dall'Atletica Roma a Cacetoso che ha corso in 47-08 avvicinando il primato allievi di Edoardo Scotti del Cusparma tutto l'anno scorso allievi di 46-87. Ah, intanto vediamo questa gara come va perché sono in due a pretendere all'accredito più alto del podio con due accrediti molto simili e allora qui la finale di gara vede favorire Francesco Cappellini che scalarca Osigbo, forse partito un po' troppo velocemente e allora Cappellini, Osigbo e poi la seconda corsia di Andrea Bacci che coglie il terzo posto. Partite intanto le giovanissime della prima serie, classe 1999, 2001, 2002, la più anziana diciamo così, beata lei, 1995, Letizia Dilisa del gruppo sportivo Virtus. Una via deciso e quello che cercano di fare è migliorarsi, migliorare il tempo e si avrà subito in testa, lugandese del postivo Lammari Ada Munguleia che conduce davanti a Francesca Tanganelli dell'atletica castiglionese e qui Francesca ha tutto il pubblico di casa a favore di rimanere agganciata al gruppetto di testa, può far meglio del suo 454-87 ma l'azione di Ada Munguleia è regolare, decisa, passa ai 400 metri in 1,09 e 80, dobbiamo vedere un ottimo passaggio veloce, 1,09 che in proiezione potrebbe dare il tempo dell'ordine dei 4,30 se riuscissero a mantenere questa cadenza e questo ritmo, intanto Giulia Giorgi si è incollata a Ada Munguleia ma non molla neanche Francesca Tanganelli che è adesso in terza posizione e allora nell'ordine Munguleia Giorgi Tanganelli, eccolo qua, passano adesso tra poco agli 800 metri, vedremo se sarà scaduto un po' il ritmo, 1,09 era il passaggio ai primi 400 metri, vedremo adesso il passaggio agli 800 metri che passano in 2,21 e 48, è calato un po' il ritmo, insomma è normale, però sempre un'ottima andatura con Munguleia in testa davanti a Giulia Giorgi, Munguleia, gruppo stativo Lamari, atleta ugandese, Giulia Giorgi dell'Atletica Arx Cus Perugia, nessun accredito per Ada Munguleia e naturalmente quando non ci sono accrediti si sa, è sempre un po' un'incognita il fine che fanno le atlete, però qui intanto con il 31 Giulia Bellini della Free Zone, si sta riportando al ridosso delle prime, ha ceduto un po' Francesca Tanganelli, l'Atletica Castiglianese, nonostante l'incoraggiamento della tribuna e del suo compagno di squadra, siamo all'ultimo giro, il giro finale e adesso se ne va, Ada Munguleia, la sua azione è diversa dalle sue due compagne di fuga e allora Giulia Bellini che adesso è passata in seconda posizione, in terza Giulia Giorgi, 3.36.45, tanto il passaggio ai 1200 metri, ultimi 200 metri per la giovanissima, 1999, origine gandese del gruppo sportivo Alammari, Ada Munguleia, poi vogliono vedere anche il passaggio ai 1000 metri che cercheremo di interpretare, eccolo qua, ci sono 1000 metri ai 1400 metri, 4.14, il finale di gara Munguleia che va a vincere questo 1500 metri d'apertura, la prima delle due serie che precede la gara internazionale, tempo finale 4.34.45 per Ada Munguleia. Partito intanto le atlete della gara dei 1500 metri, è stata presentata intanto la gara del peso del quale entreremo in dettaglio tra poco per rendervi conto dei partecipanti a questa gara, una partenza veramente velocissima, si pensa ad un passaggio ai 1000 metri di 2.45 per poter terminare con un tempo dell'ordine dei 4.15 e intanto è l'onora a Kegherita che lancia questa gara con questo passaggio a 2.45 mentre intanto passa ai 300 metri, vedremo adesso il passaggio ai 400 metri, insomma tutte le migliori sono lì all'inseguimento della Kegherita che sta impostando questo ritmo che la vede transitare a 400 metri in 1.04, insomma passaggio veloce, passaggio veloce si volge per capire quali sono le atlete che possono seguirla su questo ritmo e ce n'è soltanto una che riesce a tenere l'andatura e adesso il passaggio ad un terzo di gara ai 500 metri, intanto Cavalin Naimana del Burundi, l'atleta della Frizzono personale di 4.23 adesso ha rilevato Kegherita, si è messa al comando e conduce davanti a Martina Merlo, intanto si inciampa un pochino, Martina Merlo che si è messa alle spalle dell'atleta della Burundi, Naimana, ma sono tutto lì, è calato un pochino il ritmo e non è questo il passo per realizzare il 4.15 nel quale gli atleti speravano, anche se ci sono diverse atlete che possono farlo e allora davanti Cavalin Naimana, l'atleta del Burundi che gareggia la Frizzono personale di 4.23 e quindi hanno adesso un ottimo punto di riferimento, l'atlete che aspirano al successo in questa gara dei 1500 metri donne. intanto gli fa vedere davanti le atlete che ambiscono al successo, la campionessa italiana Giulia Aprile con persone di 4.16.23 e allora qui Giulia c'è il momento di attaccare, quindi Francesca, Vertoni, Gaia, Sabatini sono lì davanti con Giulia Aprile che in questo momento è quella che fa la differenza. Intanto Giulia Aprile sembra aver cambiato decisamente il ritmo, col petrolio numero 46, Gaia Sabatini, l'atletica Gran Sasso Teramo, personale di 4.20, non teme nessuno e lancia la volata ma reagisce, reagisce anche Cavallin Naimana e quindi si aggancia a Gaia Sabatini saldamente in seconda posizione, Martina Merlo in terza e qui adesso sarà la volata finale e qui sul rettilino finale si deciderà chi vince perché Gaia Sabatini è decisamente al comando e si sgomita lì all'interno della pista con Gaia Sabatini che si cura e con un ampio margine di vantaggio vinte davanti a Merlo e a Cavallin Naimana a tempo finale 4.22.51. Partita è la serie numero uno degli 800 metri uomini e tanto prosegue la nostra gara del peso con Sidney Giampietro saldamente al comando della gara con 15.55 davanti a Claudia Bertoletti 14.75 e Martina Carnevale 14.07, siamo al quarto turno di lanci, nullo per Martina Carnevale, Claudia Bertoletti va in pedana, per gli uomini 19.16 per Sebastaneo Banchetti davanti al 17.24 di Andrea Cagliaffa, intanto è Luigi Cirotti dell'Atletica Gran Sasso Teramo che fa l'andatura davanti a Dario Papi, Atletica Firenze Marathon, Cirotti Papi con il passaggio a 400 in 58.01 e se tenesse questa andatura o trovasse stimoli nel finale Luigi Cirotti potrebbe ritoccare il suo personale con questo bel passaggio ai 400 metri in una gara dove ha distribuito molto bene, elegante, ampia, agile la sua falcata, Luigi Cirotti di Atletica Gran Sasso Teramo classe 2000, giovane atleta dell'Atletica Gran Sasso che sfona sempre degli ottimi mezzo fondisti ma deve fare tutto da solo ed eccolo Luigi Cirotti nel finale dicevamo deve fare un po' tutto da solo, non è contrastato da nessuno e chiude comunque il nome 57.53 vicinissimo al suo personale ma attenzione anche a Matteo Benati in seconda corsia con i colori dell'Atletica Roma acquacetosa perché a Roma in occasione della prima uscita del campionato di società ha fatto molto bene distinguendosi in una batteria complicatissima quindi in ottima condizione, in ottimo stato di forma lo vediamo che si aggancia subito senza paura di niente ai due battistrada di questa prima parte di gara che sono appena transitati ai 200 metri vedremo adesso importantissimo conoscere il passaggio ai 400 metri per capire se potranno aspirare ad un tempo al di sotto degli 1,50 e intanto per la quercia a trentingrana Agba Perek è in testa con la classica maglia verde gialla della quercia a trentingrana quando passano in 51,78 ai 400 metri che è un ottimo passaggio e adesso in tre a disputarsi il primo posto in questa seconda serie potrebbe essere interessante per tutti perché è proprio l'occasione per insistere sul ritmo, tenere, migliorarsi ed eccolo Benati che si è messo alla caccia di Kanda Brian Abak Perek che comunque in quest'ultima fase ha riscontrato qualche piccolo problema e allora Molla rimane Benati davanti purtroppo da solo deve fare tutto da solo il betto leggermente contrario in questa ultima parte della gara ma ecco Matteo il primo che va verso il traguardo e chiude in 1,50 e 52 e insomma è il suo personale partiti vediamo chi sarà la lepra a tirare di questo 800 metri qui è velocissimo, velocissimo l'avvio veramente con gli atleti tutti in fila una gara ancora difficile da decifrare nei primi 200 metri naturalmente però insomma l'impulso che sta dando Stefano Massimi della Stamur Ancona è veramente notevole allora Ramzi Abdenuz è diciamo così il campione in carica perché lui è stato a vincere l'anno scorso come il record del meeting si è agganciato alle sue spalle e cerca di sfruttarne la scia mentre Abnadin Mujesnovic il bosniaco in terza posizione non molla il ritmo è buono il passaggio è discreto e quindi è esaurito il suo compito Stefano Massimi si fa da parte e Lancia il vincitore dell'anno scorso Abdenuz Ranzi e poi il sbonniaco Mujesnovic in seconda posizione ma qui siamo al momento della realità sul rettilineo finale il sbonniaco si allarga mentre viene fuori con il 5 Simone Barontini Simone è abituato alle volate calde e eccolo che ha scavalcato il sbonniaco adesso il tratto finale agli ultimi metri non ce la fa il secondo vince 1.47.65 Simone è il suo personal best e 1.47.88 il suo tempo migliore veramente l'abbiamo visto sta andando veramente bene una volata fantastica lì intanto è partita la gara dei 3.000 siepi e qui avremo una lepre d'eccezione perché Albert Chemutai che si è messo al comando cercando di impostare la gara su un ritmo da 8.15 Albert Chemutai ha un personale di 8.34 ma insomma quest'anno lui ha un personale assoluto di 8.18.40 ha ottenuto a do allo scorso 4 maggio e è stato anche quinto ai giochi del Commonwealth che si sono disputati in Australia nel mese di aprile dove ha corso in 8.19.89 e allora eccolo qua Albert che sta impostando un buon ritmo e troviamo in campo anche con un personale di 8.20 l'algerino Bilal Tatti campione già campione algerino a vincere 3.000 siepi in Algeria non è va sicuro cosa semplicissima il quale cercherà di tenere il ritmo di una grande atleta come Chemutai per cercare di migliorarsi il suo 8.20 alla fine perché insomma il ritmo impresso da Chemutai un ritmo sostenuto passa le siepi in stile keniano così come si dice anche se lui è un ugandese in forza alla Toscana Atletica Futura 2.49.69 il tempo di passaggio ai mille metri una farfalla veramente vola con una leggerezza incredibile con le sue lunghe esili leve ma è un atleta insomma che sa esprimere su questa gara delle velocità veramente altissime fondamentali 5.000 e 10.000 trovavano comunque spazio nei 3.000 siepi nei quali la facevano da padrone e con il passaggio di Chemutai ancora sul rivo mentre intanto si fa vedere Issam Zegdan l'algerino che vanta un personale di 8.31 al corso in 8.18 e 80 e questo è un po' più o meno il tempo che farà se terminerà la gara avrà intenzione oltre che di essere leve così come ha annunciato ma insomma legge un giro al termine quando transita sul traguardo intanto ha mollato un po' Issam Zegdan quindi non ci rimane che seguire e vedere un po' come va a finire anche per gli altri con Simone Colombini che passa in questo momento l'atleta della fratellanza 1874 è che sta facendo una buona gara un 8.44 e 46 il suo personale che potrebbe anche ritoccare intanto Chemutai ha sentito il suono della campana dice qui allora è ora di andare nessuno mi segue io vado per conto mio e sta facendo proprio così un finale tutto in solitario e allora attenzione perché è in serio pericolo ma potevamo prevederlo il primato del mitiche di Juad Kemlal il marocchino che l'anno scorso ha corso in 8.31 e 35 e il finale di gara intanto vediamo Costantino eccolo qua 5.88 Chemutai che va a chiudere e vincere la sua gara con il tempo di 8.34 e 83 davanti a Billal Tapti a Billal Tapti e significa che si fai iniziano da nella mia realizzazione ma Grazie a tutti.